Qua il tronto è ancora raro, non dippile me, dippile me. La corrente c'è? La corrente è tosta qua. Molto più lagunoso qua. La corrente è a degli uomini. La corrente è a una scena scena. E' una scena scena. Questa è la situazione, la situazione è piuttosto, non va, ora è frigene. Questa è la situazione, la situazione è piuttosto, non va, ora è un pozzo, non va, ora è un pozzo. Grazie Grazie Grazie